14 novembre Gli occhi del Signore che percorrono tutta la Terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele. Zaccaria 4.10 Un capogolgimento sospirato Per il credente è una gioia sapere che il piombino è in mano al nostro grande architetto e costruttore, e che quando verrà, il malgoverno del mondo avrà termine. I falsi valori degli uomini, che edificano sulla sabbia dell'opportunismo, saranno spazzati via. I fragili modelli della coscienza umana, la pretesa di pensarla come si vuole purché si sia sinceri. Tutti questi principi senza fondamento divino avranno la consistenza di una tela di ragno. La misura di ogni cosa sarà Cristo, e Cristo il misuratore di ogni cosa. Come sarà riconsiderato ogni valore. Che rovesciamento completo di tutto ciò che esiste attualmente. Beato quel giorno, che è stato così lungamente atteso. Il gran giubileo del mondo liberato dalla corruzione del peccato, il ristoro bramato dalla Terra, la gioia della creazione in travaglio e il tranquillo riposo della natura. Chi non griderebbe, Vieni Signore, poni fine a questo incubo angoscioso. Disperdi le ombre della lunga notte di ribellione alle tue perfette leggi e alla tua meravigliosa volontà. Asciuga le lacrime del dolore, della disperazione e della morte. Costruisci oggi stesso il tuo futuro eterno. Edificalo su Cristo, sull'Evangelo. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.